Quella del Consiglio regionale del Molise è una vita scissa in due, da una parte i lavori interni all'aula, regolati da un andamento lento e a tratti soporifero, e dall'altro all'esterno da un clima costante che porta sulla scena le proposte a scoppio e detonazione dei picchetti di turno. Questa mattina davanti all'aula di Palazzo Daimmo, a far sentire la loro voce, c'erano i lavoratori della GAM in attesa di notizie certe sulla loro vertenza e i genitori di Lupara, che hanno manifestato la loro preoccupazione per la questione legata al trasporto scolastico nei piccoli comuni. Insieme ai lavoratori della GAM c'erano i sindacati, la richiesta che viene a gran voce è quella di far rientrare la vertenza nell'ambito dell'area di crisi complessa, dalla quale al momento è invece fuori. Siamo al fianco degli operai della GAM perché in effetti è l'unica manifestazione reale che insiste in area di crisi complessa che può essere recuperata. Voglio usare un eifemismo, qualche disattenzione ha generato la mancato rifinanziamento dell'area di crisi complessa morisana perché non sono state investite le risorse per l'anno 2019. La voglio chiamare disattenzione e la aggiungo a quella della mancata richiesta di cassa Covid-19 che stiamo provando a recuperare. Chiaramente questi lavoratori non vogliono solo ammortizzatori sociali, non vogliono assistenzialismo, vogliono lavoro. Il presidente della regione Toma sul tema manifesta un cauto ottimismo legatosi alla possibilità concreta di ottenere la cassa Covid sia alla presenza di player interessati alla ripresa produttiva. Stiamo andando verso la cassa Covid, l'amministratore si è attivato, la regione sta istruendo questa pratica, se il ministero ci darà la sponda come io penso nove settimane di cassa Covid potranno essere assicurate. Stanno andando avanti gli studi che sta facendo questo player sul territorio ma non c'è solo questo player, per la verità si è risvegliato anche l'interesse di altro player quindi noi siamo ottimisti. Oltre ai lavoratori della GAM stamattina davanti al Consiglio la protesta dei genitori di Lupara che chiedono garanzie e sicurezza per il trasporto scolastico, un tema che riguarda dicono 120 comuni molisani che si trovano a gestire una questione complessa legata all'andamento della pandemia. Questo problema è nostro adesso però ci hanno scritto genitori di tutti i comuni molisani pregandoci di andare avanti in questa protesta perché il problema è di tutti, siamo 120 comuni che hanno questo problema, noi siamo una popolazione di 200 mila abitanti, siamo un quartiere di Roma, possiamo pensare che abbiamo 120 scuoli in un quartiere di Roma, è impensabile, 8, 9, massimo 10 poli scolastici risolverebbero la questione scuola in tutto il Molise. Alla fine del confronto con i genitori sia il presidente della regione Toma sia l'assessore a ramo Pallante hanno assicurato l'apertura di un tavolo di confronto sul tema per la prossima settimana.